Il Lantares è pronto per andare a consegnare il carro pieno di uva Questa è tutta uva che abbiamo raccolto stamattina Adesso deve fare qualche manovra senza andare addosso all'olivo qua Deve cercare di infilarsi tra questi due olivi senza toccarli Buono, buono! Ci parte! Andiamo a consegnare l'uva Ok, adesso è tornato in cabina Inizia ad altare il carro Eccola!